La prima volta che siamo a un filo di un progetto così importante. Si chiama Wonder, il progetto che ha come obiettivo la trasformazione della regione adriatico-ionica in un'area sempre più a misura di bambino. Dieci sono i partner che collaboreranno fino a maggio 2021 con il fine di rendere le città incluse nel progetto sempre più visibili in termini di tutela ambientale, servizi offerti e partecipazione cittadina. Grazie al progetto non solo i comuni miglioreranno il loro livello di coesistenza urbana ma sarà l'intera regione ad aumentare il proprio grado di attrazione turistica grazie alla disposizione di un'offerta adatta a tutti. Quali sono le aree territoriali interessate al progetto? Dunque il progetto è stato finanziato dal programma Adrion che è un interreg trasnazionale che riguarda tutta l'area adriatico-ionica composta da otto paesi di cui quattro paesi membri e quattro no. In questo specifico progetto abbiamo coinvolto la Grecia, la Slovenia, la Croazia, l'Albania e il Montenegro. Quali sono gli argomenti che vorrete proporre? Sostanzialmente il progetto punterà alla durata di due anni e mezzo che è la durata del progetto su due punti fondamentali. Uno l'individuazione di buone pratiche se esistenti già sui territori target, dopodiché l'individuazione di fare bisogni se non ci sono azioni precedenti di best practice, ma nello stesso tempo poi costituire un'agenda, quindi testare delle azioni pilota che potranno essere diverse da coinvolgimento di ristoratori, albergatori che hanno determinati servizi per i bambini, accessibilità delle spiagge a famiglie con bambini con determinate necessità o semplicemente viabilità o possibilità di visitare una città. 22 sono stati i comuni scelti per il finanziamento, tra cui rientra anche il comune di Fano, i quali si è giudicato un finanziamento europeo di 300 mila euro che saranno spesi per la città. È un grande risultato perché è la prima volta che a Fano si ottiene un finanziamento così importante su un progetto europeo, dove siamo capofila, come Fano città dei bambini, insieme ad altre 7-8 paesi europei della macro regione, quindi diventiamo punto di riferimento su una progettualità che ha caratterizzato in questi anni il progetto Fano città dei bambini, ma è anche la possibilità di potenziare delle nostre attività e l'occasione per diventare sempre più riferimento a livello nazionale anche in termini di promozione anche turistica. Pochissimi progetti in questa call sono stati finanziati, di oltre 200 progetti presentati, solo 20 e noi siamo tra questi, quindi è una bella soddisfazione. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti